Villa Sauli è una di quelle grandi ville del ponente a Prat, vicino al casale autostradale, si è già recuperato un po' la guida gemella con il barone potestà e ora si è concluso il lavoro anche per Villa Sauli, il 22 gennaio l'opera verrà inaugurata. È un'opera che ha sostenuto in modo particolare la provincia, con il suo finanziamento della regione, nell'ambito del recupero di tanti interventi che si è chiamato Villa Gianghesato, in un ancora più ampio progetto di recupero di beni culturali che ha toccato 100 opere, teatri, lille storiche, sinti archeologici, musei. È un intervento fatto usando bene tanti fondi europei, ormai ne avete conosciuto tantissimi in questi ultimi tempi di queste recupero, è un programma che si va completando perché i fondi europei finiscono in questi anni, insomma, c'è tempo ancora il prossimo anno per spendere e poi ancora un successivo per rendicontare e in particolare il progetto di Villa del Ponente che abbandona tanti anni sono un esempio molto importante di recupero delle qualificazioni, un'area significativa di recupero delle qualificazioni, un'area significativa di recupero delle qualificazioni, un'area